Per la prima volta Cuneo parteciperà al vivo Lega Volley Summer Tour, competizione che si gioca sulla sabbia 4 contro 4 per tre weekend di luglio. Si comincia già questo fine settimana, il 9 e il 10, con la Supercoppa italiana a Lignano-Sabbiadoro. Si prosegue a Riccione il weekend successivo con la Coppa Italia e si chiude a San Benedetto del Tronto per l'assegnazione del campionato italiano il 23 e 24 luglio. Oltre a Cuneo parteciperanno Brescia, Monza, Casal Maggiore, Bustarsizio e San Giovanni in Marignano, squadra in cui giocherà questa competizione il capitano delle gatte Noemi Signorile. Cuneo si presenterà al debutto della manifestazione con la regia affidata alla nuova team manager della prima squadra Lidia Bonifazi, con lei Sofia Kuznezova, Sara Caruso e Alice Gai, più le nuove arrivate Agnese Cecconello e Lara Caravello, insieme a tre giovani della Granda Volley Academy, Beatrice Battistino, Chiara Binda e Alessia Cerutti. A Lucrezia Formenti, libero, reduce da una stagione in serie B2 ad Alba, alla Beecher Kate Fretti e a Martina Gabellini, che nella prossima stagione sarà Riccione. A guidare la squadra il responsabile tecnico Antonio D'Ambrosio, coadiuvato da Domenico Petruzzelli, vice allenatore della prima squadra. Il Sarmertur è una manifestazione ormai storica della Lega di Serie A, che viene fatta tutte le estati, è un gioco 4x4, molto divertente, entusiasmante, che ha il fine soprattutto di consentire alle atlete durante la pausa estiva di continuare su un percorso sia di tenuta fisica che comunque di contatto della palla. E quindi facciamo in modo che le ragazze arrivino alla stagione indoor pronte e nella miglior forma possibile. Quali sono le sensazioni per te di questo incarico? Sono sicuramente molto contento, infatti voglio ringraziare sia Paolo Cornero che Domenico Petruzzelli, grazie ai quali io sono qui. È un'esperienza che io ho fatto più e più volte negli anni, probabilmente quest'anno forse sono un'allenatore con più anni di esperienza nel Summer Tour a sto giro. Chiaramente il mio intento è quello di trasmettere quanto più io ho appreso nei miei anni alle ragazze che per la prima volta si affacciano a questa disciplina.